In una gelida giornata di gennaio, Renzo Bossi, noto come il trota, torna al centro dell'attenzione. Dopo anni dall'Aurea Gate riguardante il presunto titolo ottenuto in Albania, il figlio del fondatore della Lega Nord, Umberto Bossi, è di nuovo al centro del dibattito online. Il motivo? Il 35enne ha appena celebrato il suo matrimonio. La sua dolce metà è Isabela Corina Gioncu, un'imprenditrice nel settore dei profumi di origini rumene, molto attiva sui social. Sorprendentemente, sulla sua pagina Instagram, non troviamo solo nessuna foto del matrimonio, ma neppure uno scatto del neomarito. Le nozze sono state decisamente intime, con una quindicina di invitati, principalmente familiari, nessun politico presente. La cerimonia civile si è svolta a gemonio, nel Varesotto, presso le sale del Museo Civico dedicato a Floriano Bodini, scultore originario del piccolo centro. A ufficiare la cerimonia è stato il sindaco Samuel Lucchini. Gli sposi hanno annunciato che più avanti celebreranno anche una cerimonia religiosa. Alla sobria celebrazione era naturalmente presente il padre Umberto, arrivato all'evento in carrozzina insieme alla moglie Manuela Marrone. Renzo Bossi, da tempo lontano dalla politica, ha abbandonato la scena politica nel 2012, in seguito allo scandalo Belsito, dopo un'inchiesta sull'utilizzo per fini personali dei finanziamenti pubblici della Lega Nord. Oggi, il secondo genito del Senatur ha aperto un'azienda agricola a Brenta e ha dichiarato di sentirsi molto più a suo agio nei panni di contadino rispetto a quelli di esponente politico, come aveva anticipato in un'intervista a Vanity Fair nel 2012. Auguriamo a Renzo Bossi e alla sua nuova sposa tutto il meglio per il loro futuro insieme.